In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il Presidente della Repubblica sollecita una riflessione su come rendere effettiva la protezione di chi fugge dal proprio paese per necessità. L'Italia dice Mattarella ha sempre fatto la sua parte. Luciano Gelfi. Rendere effettivo l'esercizio della responsabilità internazionale nei confronti di chi è costretto a fuggire a causa di guerre, persecuzioni, fame e calamità naturali. Per Sergio Mattarella la giornata mondiale del rifugiato deve essere occasione di riflessione su una protezione prevista dal diritto internazionale più che mai necessaria e non sempre piena. Ricorda il Capo dello Stato come oggi nel mondo ci siano oltre 80 milioni di persone in fuga con l'alto commissario a Tonu che si trova a proteggerne 100 milioni. Storie individuali e di popoli, aggiunge, che fanno appello al nostro senso di solidarietà oltre che a doveri morali e giuridici. Per la verità, nota Mattarella, l'Italia, in collaborazione con l'Europa, non si è mai sottratta neppure in tempo di pandemia ai doveri di proteggere la vita, salvare i profughi e accogliere i più vulnerabili. Per questo dal Quirinale parte un doppio ringraziamento. Il primo agli apparati dello Stato impegnati ogni giorno per assicurare che la protezione internazionale sia reale. Il secondo per il volontariato religioso e laico impegnato ad assistere ai rifugiati anche promuovendo esperienze innovative come i corridoi umanitari. Ed ora l'appello di Papa Francesco, apriamo il cuore ai rifugiati.